Oltre 7.500 studenti delle scuole toscane parteciperanno al Mandela Forum di Firenze alla sesta edizione del meeting organizzato dalla regione in occasione del giorno della memoria che si celebra il 27 gennaio. Il programma prevede la partecipazione di tanti testimoni diretti scampati ai campi di sterminio. Oltre 200 le iniziative promosse anche quest'anno in Toscana da parte di scuole, associazioni e istituzioni pubbliche per ricordare la Shoah. Grazie.